Che è una sei frustro che è pronti, voglio andare a vedere ragazzi, voglio andare a vedere l'occhio che mi avete detto che si vede a picco polare, sono troppo troppo curioso, non l'ho ancora visto ragazzi, non c'ho neanche fatto caso, andiamo. Tra l'altro ragazzi, tra l'altro, non so, se avete notato ho messo il filtro antipop al microfono, vorrei sapere se per caso sentite un pochettino meglio in teoria le parole come P-R-T. Buongiorno Fibie, non dovrebbero più darvi fastidio adesso ragazzi, si muove, buongiorno Thomas, buongiorno, buongiorno, buongiorno Irene, buongiorno ragazzi, un po' meglio, perfetto, voglio vedere l'occhio, voglio vedere l'occhio, fatemi vedere l'occhio, voilà, voilà, are you fucking kidding me? Oh porca troia mi segue Porca troia Complimenti capitano Ha una bella cera sta Porca troia Devo registrare un secondo Quasa Devo registrare un secondo Se vai a tinte c'è il timer No raga ma siete seri Wow Wow Momentonello, momento Porca trota E infatti il timer c'è sempre stato ragazzi Lo sanno già tutti e ora andiamo a giocare Allora fan chiulo Allora fan chiulo Andiamo ragazzi Andiamo Vediamo Vai Ma io avrei voluto Io non ho parole Non ho parole Si sente il batto Vedete ragazzi che molti non lo sanno Oh a me Sbatechiglioni Io lo registro Se volete ragazzi io lo registro Se avete voglia Non ho ancora ricevuto la ricassa di questo ragazzo Ma che cavolo di suoni che ci sono ragazzi Raga registro 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 Fan culo Fan culo Fotte un cazzo se lo sa già la gente Che cactus fai Da oggi puoi supportarmi Nello shop Con il mio codice Creator Clicca in basso a destra Sul tasto Supporta un creatore Ed inserisci Xyuderone Dai Bella a tutti ragazzi e benvenuti A questo velocissimo video Io sono Xyuder E ragazzi come vi avevo anticipato nel video di questa mattina dove vi ho spoilerizzato Quell'occhio che si vedeva nei file di gioco Beh ragazzi da qualche ora su Fortnite quell'occhio è realtà Grazie Razer Grazie Razer Grazie di cuore E tra l'altro ragazzi è davvero un qualcosa di inquietante C'è davvero una bestia nella grotta di Pico Polare ragazzi guardate che roba ragazzi Guardate che roba Vi metto l'audio di gioco Così potete anche voi sentire Perché c'è addirittura un Guardatelo guardatelo là in alto Oh raga ti segue Raga ti segue Aspetta che prendo un pelo di legna Ti segue con lo sguardo raga È inquietante È inquietante Guardalo È troppo inquietante Ragazzi è assurdo Esattamente uguale all'occhio che vi avevo detto È un qualcosa di assurdo Quindi ragazzi Io volevo tantissimo farvelo vedere Anche se la gente mi spara Non me ne frega niente Vi ringrazio per aver guardato questo video Andate a godervi l'occhio in game Noi ci vediamo in live Ciao Ciao